Come dicevo, seguito il video precedente, mi aspettano i massoni della strada. Sono in una strada dell'area dell'estudio del Carlino, qui a quest'orario non ci passa un'anima vivente, anche se c'è una sorta di, come si chiama, documento per, sì documento, monumento per andare a pregare ai vecchi islamici. Questa qua è stata corrotta per passarmi davanti. Come dicevo, tra le tante persone moleste che mi danno fastidio, che sanno gli uomini di proie che mi danno fastidio, rientrano anche i corridori, quindi le persone che fanno sport, tipo questa. E voi direte, vabbè, no, semplicemente che c'è un dispiego considerebole, perché è un conto se uno corre ogni tanto. Un conto se ti vedi un tripulio di gente che ti viene addosso col cane, che ti fuma, che corre, c'è un disagio. E questa è una che è stata corrotta. Infatti avete visto che aveva le cuffiette? Le cuffiette servono a queste persone per informarli in tempo reale di dove sono, quando agire e di andare.